io ho visto che sono arrivati presentiamo la prima muser ospite qui oggi Bianca Zettare e poi c'è l'altra ragazza che va sempre chiusi perché è super fortissima, super ricercatissima è Oscar Martino Francia e ultimo ma non ultimo insieme al suo grande destriero e assistente Luca abbiamo insieme a noi il figaccione che viene direttore italiano Adriano Finto a presto a presto a presto Oh Take my hand, let's go You're so cute Oh Oh Oh